L'imprevedibile che si materializza con il passare dei minuti. La Siligas Avellino cade in casa con il Mornar nel dodicesimo turno di Champions con il finale di 53-60. La conclusione di Ragland e la schiacciata in transizione, firmata da Tatum, sono la sintesi del match. Avellino sparacchia 5 su 38 da 3, 19 su 70 dal campo, Mornar ne approfitta con piccoli passi. Nel primo quarto è apparente controllo di una sfida nata non con il piglio giusto. Pavic dalla punta piazza la bomba del più 5 per un piccolo strappo, ridotto con l'ally hoop di Fesenko che però non scuote i biancovirdi. La tripla di Thomas permette solo il rientro ad un possesso al ventesimo per il 26-28. Chi si attende un ritorno di forza sul parquet per i lupi è smentito dal terzo quarto. Radunovic nel pitturato garantisce un margine di 9 punti al Mornar. È una scandone bloccata in attacco e da soluzioni estemporane. Randolph appoggia in entrata, Tatum risponde per la conferma montenegrina sul finale di terzo periodo. L'ultima frazione si apre con l'ally hoop Randolph O'Bashwan che resta fine a se stesso. Waller gioca benissimo alla tabella e accomoda la doppia cifra di vantaggio ospite. Avelino prova una serie infinita di conclusioni da oltre l'arco. Lunen colpisce nel marasma per il meno 6 a 3 minuti dal termine, ma pochi secondi dopo Pavic rilascia la conclusione che rende effimeri i tentativi di rimonta Erpini. Finale di 53-60 sul Reale al Del Mauro e prospettiva primato compromessa per la Sidigas che martedì sarà di cena a Tenerife per difendere il secondo posto nel girone D.